Non solo genio giovanile ma anche crescita in un'ottica di creatività e fantasia. Le feste archimedesi affiancano alla progettazione di un futuro che vede proprio nei giovani le nuove leve siracusane del domani. Questa mattina un incontro all'ISIS per tratteggiare la forma di quest'unione. Un festival che si basa su un gioco di parole però significativo, ripartire dal futuro. Come se già comunque il progetto di ciò che si vuole per quanto riguarda la crescita c'è. Assolutamente sì, sappiamo e comunque questo è un progetto che ha seguito da vicino la professoressa Cancelliere, sa che è la coorganizzatrice del Festa Archimedea e questa è una cosa per noi emozionante perché avere qui il Festival della Crescita, un festival dedicato direttamente alla felicità e alla gioia dei bambini perché è il festival della felicità e che si coniuga perfettamente con quello che facciamo noi qui. Da qualche anno in più abbiamo cercato di collaborare per entrare in rete. Quindi significa che noi saremo... ma questo ve lo potrà descrivere la professoressa che meglio di me conosce il Festa della Crescita ma la cosa bella è che questa capitale, come ho detto tante volte, finalmente lo sarà, non è futuro, è presente, è la capitale dell'infanzia. Festival della Crescita e Feste Archimedea si sono incontrate questa primavera, hanno cominciato a costruire insieme un progetto globale. Siamo ambasciatori del Festival della Crescita, li stiamo ospitando a Siracusa. Cos'è il Festival della Crescita? Il Festival della Crescita ha lo scopo di creare un circolo virtuoso fra tutti i protagonisti della crescita, sia dal punto di vista dell'innovazione, dell'educazione, della formazione, dell'imprenditoria, le start-up, i giovani, tutto ciò che per l'Italia vuol dire crescita felice. È chiaro che una proposta del genere per le feste archimedee era quanto mai significativa.